e qui ragazzi siamo davvero 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 in alto uno dei cucuzzoli più alti con l'abbazia qui in quota di santissimo salvatore dovrebbe essere a pochi chilometri da montella questo è quello che si vede dalla sua terrazza che meraviglia 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 assoluta proprio guardate voi quelli lacino che ho appena lasciato lì dove stanno arrivando quelle belle nuvole questa è l'abbazia che si si intravede da chilometri e chilometri già quando percorrete la statale che dalla lucania interfaccia alla campania già questo questo luogo si intravede con tutta la sua bellezza assurda è qui l'interno della chiesa stupenda in primis dei portoni tutti lavorati in bronzo spettacolare sia quello di destra e quello di sinistra che è quello dell'ingresso principale configurata la via crucis e questa è la chiesa stupenda con il santissimo salvatore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti